Senta, un'esperienza con una donna l'ha mai avuta? Allora, io ho baciato donne, ho toccato donne, ma non mi piace la vagina. Sono abbastanza esplicita. No, perché è veramente quella cosa lì, perché io trovo che le donne siano bellissime. E mi eccitano anche, sessualmente, le donne. Però poi nell'atto... Non ce la fa. Non ce la faccio, sì. Senta. È vero. Dico, almeno... No, se io faccio delle domande, che poi penso che uno è più vago, invece... No, io dico sempre, quando mi dicono, io dico, prego il mio Dio di alleviarmi da questa attrazione verso il pene. Perché è molto forte questa attrazione. No, perché è una piaga, perché poi questi uomini non vanno bene. No, perché mi... diciamo che farei a meno degli uomini, molto volentieri. se non fosse per quella cosa. Cioè, sessualmente sono attratta. Cioè, sessualmente sono attratta. Sessualmente, sessualmente. Sì, sì, sì. Cioè, le piacerebbe più essere attratta, dice, dalle donne? Sì, o proprio non attratta a niente. Assessuata. Assessuata anche mi andrebbe bene. Ho dato. Eh, e invece no. E invece no. Sono proprio molto attratta. Molto... Buonasera e benvenuta. Che bel va si sente. Beh, direi una cagna. Per forza di cose. Per una serie di motivi. Sono costretta. Qualche allievo, qualche ragazzo mi ha chiesto scusa? Scherziamo. Ma... Non esiste. Come mi è venuto in mente. Sente, fidanzata adesso? No, non sono fidanzata. Innamorata? No. Ma lei è abituata a vivere ovviamente la sessualità in modo pubblico. Fa fatica poi a vivere la dimensione intima in una relazione? Allora, adesso la mia sessualità da quando faccio questo lavoro è pari a zero. Quindi tutto quello che era trasgressione e quant'altro fa parte della vita di Milena. Da quando sono malena la mia vita sessuale si è azzerata perché gli uomini non ci provano nemmeno. Perché essendo una donna che rappresenta appunto il sesso forte mentre l'uomo normalmente è abituato a fare il figo col sesso come deve fare il figo ma poi lo deve fare anche a letto. E quindi la maggior parte degli uomini fuggono da me. Ma è complicato trovare quindi un fidanzato fuori dal suo mondo? Sì, è molto complicato. Solo che non è una questione di pregiudizio verso il mio lavoro perché quello è quello che vogliono far credere perché è più facile far credere questo. La realtà è questo, è un problema di confronto solo che l'uomo siccome appunto non vuole ammettere che non ama avere il confronto con lui. Io sono del popolo, io mi sento vicino al popolo. Allora il mio talento principale è la spontaneità. Sono spontanea, sono vera. Sono il simbolo della bellezza italiana, sono una subrette. Sono il simbolo di chi lotta per arrivare e ce l'ho fatta. Rappresento proprio i colori dell'Italia. Sembro un'eterna ventenne. Questa cosa che io trasmetto, questa luce che non tutti hanno, sono diversa. Diversa da tutte e uguale a nessuna. Io fondamentalmente sono molto timida. Ah, si vede. Quindi nascondo la mia timidezza. La popolarità io ce l'ho, ne ho anche troppa. Sono molto altruista, molto generosa, dolce. Io sono soltanto con lei che ha scoperto il vaso di Pandora. E credo di essere ancora un'icona. Si dia un voto. Da uno a? A dieci. A un esagio. C'era molto piacere. Moltissimo. Eh, certo. Lei ha sempre tatuato le iniziali F e I? Sì. A male che va. Forza Italia, che è? No, si troverà un altro con il nome che inizia con F. Ah, sì, infatti.